Buongiorno, buon pomeriggio, buon fine pomeriggio a tutti dalla redazione del canale 96 di Tele Firenze Viola Supersport e ben ritrovati da Stefano Ballerini e il nostro consueto punto di vista dei campionati delle notizie dei campionati di palla a mano. C'è stato anche l'intermezzo duplice per quanto riguarda gli impegni della nostra nazionale azzurra di Mister Trillini, purtroppo due sconfitte prima con la Polonia e poi la super preannunciata preannunciato no match di Chieti contro la Francia. Ma andiamo dunque subito a incanalarci nella nostra puntata settimanale. Allora, arriviamo da quello che è stato il primo dei match per quanto riguarda il match con la Polonia, perso in trasferta a Katowice 30 a 23. Il titolo del nostro pezzo, ovviamente prendendo il comunicato stampa di fighe punto it del mio amico Matteo Aldomonte, lo ringrazio, dobbiamo cominciare a corricchiare laddove le altre vanno ormai di corsa da un pezzetto. L'Italia perde 30 a 23, avevamo lottato bene nel primo tempo 10 a 9 contro la Polonia alla Spodec Arena di Katowice davanti a oltre 7 mila spettatori nella prima giornata del gruppo qualificazione agli europei 2024. Dunque, dopo un primo tempo giocato praticamente alla pari, era fatale il break 6 a 1 costruito dai padroni di casa in avvio di ripresa che ha reso tutto più difficile a Parisini e compagni. Poi tornava in campo domenica 16 ottobre al Palo Giovanni II di Pescara dove davanti alle telecamere Sky Sport sport e sfiderà i campioni olimpici della Francia, lo vedremo appena appena più avanti purtroppo. Sconfitta nettissima quella, la seconda era preannunciata. La partita con la Polonia invece era senza soluzioni mancine, erano fuori per infortunio Bortoli e Max Prantner, Trillini puntava all'inizio su Marco Mengoni in posizione di terzino sinistro, completava la linea dei terzini, l'ex Siena, Pablo Marrochi e Davide Bulzamini, solito baluardo difensivo ma rimasto a secco in fatto di realizzazioni. È nella sua 6 a 0 che l'Italia per tutto il primo tempo trovava le basi per mantenere la sbloccava Marrochi su rigore, 1 a 0 al quarto d'ora era il capitano Andrea Parisini, miglior marcatura con 8 segnatura alla fine a siglare la rete del 5 a 5. La Polonia si reggeva sull'asse annunciato Moraschi morito, il primo tra i pali chiudeva col 32 per cento, tanta roba. Il secondo sarà poi il top scorer del match con ben 9 marcature giunte tutte quasi nei momenti chiavi distribuiti per l'incontro più come detto nel secondo tempo. Il mancino del Chiels regala i 7 mila della Spodeca Arena anche il boato del 10 a 9 sulla sirena nel primo tempo con un gol da distanza cosiddetta siderale. Il Pio 1 polacco lascia dunque tutto aperto alla fine della prima mezz'ora, l'ultimo punto di reale contatto tra le squadre però arrivava proprio in avvio di ripresa. Mengon immediatamente siglava la rete dell'attività 11 a 11 sul rovesciamento. Bulzamini veneva assanzionato con i primi due minuti della partita. L'Italia in inferiorità numerica purtroppo si disuniva due palloni persi, attacco che aveva le polveri bagnati, tutto spalancato o morito, gol facile del break che al 42esimo portava sul più 6 i polacchi. 18 a 12 nei tentativi di rimonta azzurro molti venivano dai gemelli Mengon, da Capitan Parisini. I padroni casa rimanevano sempre invece al posto di guida. 25-16 al cinquantesimo, 27-20 al 55, chiusura sul 30-23. Da segnalare l'esordio in una competizione ufficiale nell'Italia dell'ala sinistra, Tommaso De Angelis, 17enne in forza, guarda caso, al Campus Italia. Quello che dice, e credo di poter chiedere a Enrico Milano di mettermi una foto dal repertorio di Riccardo Trillini, il mister ci ha detto, credo che il risultato sia veritiero per quanto visto, perché a questi livelli per vincere non basta giocare per 35 minuti, aggiungo io l'11-11. È altrettanto vero che fino a quel momento eravamo stati davvero spettacolari. Credo che la difesa sia stata all'altezza dell'impegno fino alla fine, infatti il parziale di inizio-secondo tempo è arrivato proprio nel momento in cui Marrochi, il nostro leader offensivo, aveva bisogno invece di rifiatare e invece di palle perse che hanno aperto i varchi alla Polonia per scappare in situazioni di porta vuota, campo libero, uno più uno. Da lì ci siamo un po' demoralizzati, la Polonia si è sciolta, a mio avviso l'approccio mentale deve continuare ad essere questo, l'Italia deve sempre affrontare questo tipo di partite non per contenere il divario ma per cercare di vincere, solo così potremo colmare la distanza che ci divide dalle avversarie proprio come questa Polonia. Sicuramente abbiamo bisogno di un mancino sul lato destro perché siamo stati limitati nel dare continuità al gioco, l'uno contro uno di Marrocchi è venuto meno per stanchezza laddove siamo calati. Ora dobbiamo lavorare, non lasciarci abbattere, puntare alle partite di marzo con la Lettonia e a quella di aprile in casa con la Polonia che sappiamo essere la chiave di questo girone, aggiungo che in quelle sfide servirà un'atmosfera come quella che abbiamo visto a Catovice avere tanto pubblico, tanto calore sugli spalti è un fattore che aiuta senza dubbio la squadra di casa che può influenzare il match. Gli azzurri poi avrebbero fatto ritorno domenica mattina alla casa della palla a mano, proseguire la sfida contro la Francia, match che anche quello sarà stato trasmesso poi da Sky Sport, lo streaming su Eleven Sport, allora andiamo a vedere a questo punto quello che è successo nel match numero due. Allora se noi speravamo di poter ottenere qualcosa di positivo contro la Polonia, il match contro la Francia ha perso tanto a poco 40 a 29, era un no match annunciato, il match è stato al pala Giovanni Paolo II di Pescara, l'Italia cede infatti ai campioni olimpici della Francia con il risultato di 40 a 29 di vario già nel primo tempo, 19 a 13 nella seconda giornata del gruppo 8 di qualificazione agli europei 2024, rispettato il pronostico alla vigilia in Abruzzo dove però la nazionale tiene fede a se stesse e offre una prestazione sfrontata, come chiedeva e come avevamo riportato dalle parole di Trillini, senza timori riverenziali, ricca di sprazzi positivi, troppo forti ovviamente i francesi, la squadra di Guilhem Gillet giunta a Pescara con la migliore squadra possibile, out per infortunio il solo Kenten Mahé, fa risultato pieno, raggiunge la Polonia in vetta da classifica, entrambe a punteggio pieno, niente compremesso in ottica di passaggio, l'Italia si riporrà tutte le sue chance nella doppia sfida di marzo contro la più abbordabile Lettonia, ma in passato purtroppo con il Lettoni non è andata affatto bene, in quell'occasione sarà fondamentale poter cominciare a pensare di blindarci il terzo posto per giocarsi poi tutto nel confronto interno ad aprile a posto contro la Polonia nel retur match. Trillini rinunciava ancora agli infortunati, Dakiran, Bortoli e Prantene, l'inizio azzurro era spigliato, apriva le danze Remini, ma al quinto Andrea Palesini migliore in campo tra gli azzurri con un brillantissimo 7 su 7 al tiro, 100%, porta l'Italia in vantaggio 3 a 2, gli italiani incrementano il massimo vantaggio 5 a 2 di Marco Mengonne, 6 a 3 di Pagolo Marrocchi, a nono il pubblico cominciava a grande l'entusiasmo, la Francia però ingranava e replicava con un controparziale del pari 6-6 dopo 11 minuti, boato dei tanti appassionati giunti a Pescara per l'ingresso in campo con il gol di Nicola Carabatic, transalpina, tre volte oro olimpico, celebrava proprio in questi giorni il ventesimo anniversario del suo esordio nella soluzione transalpina, tutto il match restava in bilico per 18 minuti fino al 10 e 10 con cui Porte rispondeva a buzzamenti, purtroppo dall'alto della loro forza conclamato cambiavano marcio, piazzavano un altro break di 6 a 0, fuggivano via 16-10 squadre a riposo, 19-13 Francia, la ripresa nonostante l'impressione sia quella di una partita dall'esilo chiaro, era però godibile, ritmi elevati, Italia che nonostante lo svantaggio continuava a spingere, fino alla fine se Parisini sarà l'MVP, in copertina c'è anche Tommaso De Angelis che vedete nella foto che vi pubblica Enrico Milano dal pezzo della fig.it, il brillante 17enne del Campus Italia bagnava il debutto casalingo con la maglia della nazionale senior con due gol da incorniciare, i campioni olimpici, bene anche l'ex Siena, dico io Umberto Bronzo, tra i più volitivi, autore di 5 reti a fine gara, la Francia intanto faceva ruotare gli uomini di un organico davvero sconfinato, amministrava trascinata dalle sortite offensive di Tornò, finiva come detto 40-29. Anche qui vi riporto le impressioni di Trilini e poi chiedo, sospendendo per qualche secondo la mia voce, di mandare da il mio amico Enrico in regia il filmato in audio che c'è proposto dal pezzo di fig.it. Trilini diceva che abbiamo giocato una partita di linea rispetto a come l'avevamo preparata, anche se parlare di preparazione in un match contro la Francia può sembrare un po' presuntoso, dovevamo fare del nostro meglio dimostrando personalità, mettendo in campo un sistema di gioco che avrebbe potuto aiutarci in certi frangenti. Sapevamo di affrontare una delle squadre più forti al mondo, forse la più forte, per cui alla fine devo loggiare tutti i ragazzi, i miei giocatori, per come abbiamo dimostrato attraverso il loro contributo, di essere stati all'altezza, perlomeno parzialmente nel match. È chiaro adesso che dobbiamo cercare i punti per farlo, sappiamo di dover giocare alla perfezione, soprattutto contro certe altre avversarie, per cui abbiamo bisogno di lavorare insieme e di poterci allenare il più possibile. Lo abbiamo visto in Polonia, dove certe situazioni, come la gestione del gioco passivo, l'extra player, l'uomo in più, hanno influito su una prestazione che a mio avviso era già stato eccellente. Allora mi fanno il filmato di fighe.it, che per gli appassionati lo potete trovare anche su YouTube, linea alla regia parzialmente, poi torniamo a proseguire la nostra trasmissione. Chi ha visto la partita ha visto da un lato la squadra medaglia d'oro alle Olimpiadi, dall'altra un'Italia coraggiosa, per nulla rinunciataria, con dei principi di gioco saldi. Tu da direttore tecnico che Italia hai visto e se, ti chiedo, questa Italia ha rispettato i compiti che le avevi dato alla vigilia? Sì, hai detto tutto bene. Assolutamente abbiamo fatto una partita in linea di come l'avevamo preparata, ma soprattutto dire di preparare una partita contro la Francia è anche un pochettino presuntuoso. Nel senso, noi dovevamo fare del nostro meglio, ma dimostrando personalità e nello stesso tempo dimostrando un sistema di gioco che ci avrebbe aiutato in certi frangenti, perché veramente questi sono i più forti al mondo. Potranno non vincere tutti i campionati del mondo europei, ma sono sempre lì. Quindi io devo elogiare dal primo all'ultimo dei miei giocatori, ho cercato di farli giocare tutti, perché oggi era anche una festa, e hanno dimostrato tutti quanti con un loro contributo di essere stati all'altezza. Che sensazioni ti lasciano queste due partite, queste prime due partite che non portano punti, ma che ci accompagnano comunque alle due partite fondamentali poi contro la Lettonia? È chiaro che noi dobbiamo cercare punti, però è pure vero che non dobbiamo essere realisti che per ottenere i punti bisogna giocare bene, bisogna allenarsi, bisogna avere giorni di stage insieme per crescere, perché noi dobbiamo giocare sugli episodi, dobbiamo essere perfetti dal punto di vista tattico, come non è stato in Polonia, perché infatti in Polonia è venuto a mancare il gioco nel passivo, il gioco in extra player, abbiamo fatto una super partita che però per ottenere risultati non basta, dobbiamo essere perfetti. Gli allenatori non amano mai fare nomi, provo io a farne un paio, intanto il capitano Andrea Parisini è sempre più leader di questa squadra, miglior marcatore sia in Polonia sia qua in Italia, è in difesa insomma, insieme a Bulsamini è una coppia sempre solida, sempre affidabile. Sì, hai detto bene e aggiungo su Parisini una cosa che potrà passare inosservata, un pivot di questa stazza che con la nostra 5-1 difende dietro, riesce a fare 7-8 contro piedi prime fasi come ha fatto in Polonia ad oggi, è una grande cosa perché oltre alla qualità è anche una grande volontà. Poi devo dire che con Bulsamini, i due gemelli Mangon, Savini, chiaramente l'allenatore sta messo bene perché può inventarsi qualsiasi difesa come abbiamo fatto in queste ultime due partite e questo può riuscire perché loro hanno delle grandi qualità. Allora faccio anche un altro nome che è quello di Marrocchi a quale gli è affidata la squadra in attacco ed ogni partita lui sa dimostrare di sapere gestire bene questo compito al massimo. Chiedo un'ultima battuta su un altro nome a questo punto, Tommaso De Angelis che a 17 anni si toglie la soddisfazione di due gol con la Francia. Tommaso De Angelis, io sono emozionato perché avendolo al campus lo vedo tutti i giorni, vedo che il ragazzo è, se non fossi stato certo che lui non si monta la testa non l'avrei fatto giocare, invece può giocare perché io so che è forte, perché lo vedo tutti i giorni. Abbiamo detto in settimana che se vogliamo essere rispettati da queste nazioni dobbiamo non rispettarli, cioè in campo dobbiamo scendere al massimo, nel buon senso picchiarli come usualmente si fa in difesa nella palla a mano. L'abbiamo fatto e penso che non ci hanno sottovalutato, hanno giocato al massimo. Penso che 11 gol di differenza potevamo limitarli un po' di più, penso qualche palla persa in meno, qualche tiro forse un po' forzato e sbagliato, però stiamo giocando contro i migliori al mondo, più alto di questo non c'è, forse la Danimarca e la Spagna ma sono allo stesso livello per me. Quindi è stata una partita difficile come ci aspettavamo, abbiamo iniziato molto bene direi, abbiamo avuto un calo negli ultimi dieci minuti nel primo tempo e contro questa squadra appena hai un minimo di calo loro ti puniscono e come ho sempre detto per vincere contro questa squadra deve essere il tuo giorno perfetto, ma non di un singolo, deve essere il giorno perfetto di 16 persone e il loro giorno peggiore probabilmente, così non è stato e va bene, siamo contenti e adesso torniamo ai nostri club ma già col focus a marzo per le partite contro la Lettonia che sono le prime due da vincere assolutamente e poi si vedrà in aprile qui contro la Polonia in Italia cosa riusciremo a fare. Che sensazioni ti lasciano a livello di progressi di gioco queste due partite con la Polonia soprattutto per i primi 35 minuti e anche contro la Francia dove al di là del punteggio si sono visti sprazzi di bella palla a mano? Penso che sicuramente se pensiamo che non abbiamo avuto niente allenamenti per prepararci a questa nuova difesa che abbiamo fatto da 5-1 sono molto positivo perché abbiamo messo in difficoltà una squadra come la Polonia stiamo parlando da una delle prime 12 al mondo e ovvio, poi stiamo parlando anche di giocatori di giocare la Champions così quindi non è che per 60 minuti riesci a sorprenderli però abbiamo tenuto e anche in Polonia penso che 6 contro 6 non sono riuscito a farci gol così facilmente. Anche lì palle perse, qualche tiro forzato in uno in meno, loro hanno fatto 3-4 gol in porta vuota più qualche contropiede e lì c'è la differenza di 7 gol. Penso che sia con la Francia che con la Polonia se vogliamo abbiamo limitato i danni perché la differenza reti non è così importante e negli altri gironi penso che non ci sono stati sorprese però quindi per le quattro migliori terze ancora tutto aperto e come ho detto adesso sicuramente queste due partite ci hanno insegnato molto, ci hanno insegnato che questi giocatori, questi 16-18 con quelli che non hanno giocato sono giocatori che hanno gli attributi, che non lasciano mai e questo secondo me ci aiuterà molto per il futuro Siamo collegati Stefano Ballerini al ponte di comando, il calendario completo del gruppo 8, i primi risultati Francia-Lettonia 35-18, Polonia-Italia 30-23, Lettonia-Polonia 19-37, questo è un buon risultato per noi Italia-Francia 29-40, l'8 o 9 marzo Italia 8-9 marzo dall'altra parte Polonia-Francia 12 marzo Lettonia-Italia sarà decisivissima 11 o 12 marzo Francia-Polonia 26 aprile Lettonia-Francia 26 o 27 aprile Italia-Polonia 30 aprile Polonia-Lettonia il 30 aprile dall'altra parte, dico uno delle due date perché essendoci di mezzo la possibilità che tutti gli incontri vengano trasmessi su Sky, bisogna limare la richiesta di Sky contro la disponibilità delle squadre di scendere in campo in quei due dati presunti giorni, la classifica giornata del gruppo 8, Francia 4, Polonia 4, Italia 0, Lettonia 0 ricordo la formula, meccanismo di qualificazione che non ha subito variazione, vanno agli europei di 24 squadre, sono già sicure di esserci la Germania in qualità di nazione ospitante, poi Svezia, Spagna e Danimarca, le tre formazioni salite sul podio nell'edizione 2022 di Ungheria e Polonia per i 20 posti rimanenti saranno assegnate le prime due di ciascun raggruppamento delle qualificazioni oltre che alle quattro sempre nell'ambito degli otto gironi. Nota a margine la classifica delle terze tiene conto solo dei risultati ottenuti contro prima o seconda del proprio gruppo e allora abbandoniamo le sorti degli incontri della nostra finale e allora entriamo poi a parlare di quelli che sono i risultati dai campi dei campionati di Serie A. Allora Serie A 1 femminile si gioca la quinta giornata, si è giocata la quinta giornata, allora andiamo a rivedere mercoledì 5 ottobre Cassano Magnago-Brixen-Suttirol 27-28, Alibeste-Espresso-Mestrino-Mezzocorona 24-26, martedì 11 ottobre Casta-Rorale-Pontini-Acellini-Padova 35-26, il 15 ottobre Casa Grande-Padana-Erice 32-26, Ferrara-Teramo 41-29 in a 1, il match tra Salerno e Tusce Prato sarà giocato mercoledì domani alle ore 18 e 30. Andiamo a riproporre anche i risultati delle coppie europee, European Cup secondo match allora andata Espresso-Mestrino-Ghion 21 questo l'otto di ottobre 9 andata Madeira-Brixen-Suttirol 25-22 qui eravamo ancora in bassica, poi sabato 15 ottobre ritorno Ghion Espresso-Mestrino 34-15 doppiati, Mestrino eliminato, Zug Casta-Rorale-Pontini è andata 26-26 avevamo vinto di un punto, poi l'andata Iomi-Salerno-Yeni-Mahal 34-33 successo italiano di un punto, il ritorno Brixen-Suttirol-Madeira 21-31, Brixen eliminato domenica 16 ottobre, Casta-Rorale-Pontini a Zug 24-32 tra andata e ritorno eliminato purtroppo il Pontini e poi Ancala-Yeni-Mahal-Yomi-Salerno 24-22 anche qui Salerno purtroppo eliminata. Andiamo ai campionati a due femminili, girone C, la prima di andata, Oderzo, Pallamano-Mestrino 32-30, Euromed-Mugello, Pallamano-Cellini-Padova, raddoppiati Patavini, le Patavine, 32-16 Mugellano con 7 di Simoni, 5 di Gorelli, 4 Guidoni, 3 di Salemme, 2 di Cerchiai, 2 di Emma Dallai, 2 di Zoppi, 1 di Treoni e 1 della Gigli. Udine, guerriere Pallamano-Malo 27, Malo vince in trasferta, Arcobaleno-Riago Padova, Tusce, Prato finisce 20, vince Prato, anche la seconda squadra, con 11 della Gurra, 3 della Micotti, 2 di Viola Rossi, 2 di Saccenti, Amerighi, Bisogna e Nicolai. Uno a testo, la classifica ovviamente prima di campionato facilissima, chi vince ne prende due, chi perde zero, non ci sono pareggi, Pallamano-Euromed-Mugello, Guerriere-Malo, Tusce-Henbol-Prato, Pallamano-Oderzo hanno due punti, Pallamano-Riago Padova, Pallamano-Mestrino, Cusse-Udine-Pallamano-Cellini-Padova hanno zero punti. Andiamo a vedere anche quello che ci propone da fighe.it, la classifica alla prima giornata delle migliori marcatrici in A2, femminile Gironda, Chiara Fabris, Pallamano-Guerriere-Malo, 12 reti, Melissa Gurra, Tusce-Prato, 11, Anna Carrer, Pallamano-Derzo, 10, Gaia Rubino, Tusce-Henbol-Prato, 9, Anna Galvan, Pallamano-Mestrino, 8 gol, Teresa-Anna-Marsilio, 8 per la Pallamano-Oriago Padova, la compagna di squadra Ilaria Bruseghine ne segna 7, per la Pallamano-Mestrino, 7 per Alice Piva, per la Pallamano-Mugello la migliore è Martina Simoni, 7, poi segue a 6 gol Pallamano-Mestrino-Giulia-Anziliero, 6, sempre 6, Erika Bigolin, Pallamano-Derzo, 6, Marianne-Megninang-Cagna della Polisportivo Riego Padova, 6, Elisa Tomadini, Cus-Udine, a 5, Alessandra Carrer, Pallamano-Derza, a 5, Anna Esposito, Cus-Udine, a 5, Adele Gorelli, Pallamano-Mugello, 5 anche per la giovane rampante cresciuta tantissima Margherita Tubi, 5, scendendo a 4, Pallamano-Cellini, Viola-Grazia-Bossa, 4 gol, 4 anche per la Mugellana Giulia Guidoni, 4 per Cinda-Greis-Cagna, Pallamano-Riago Padova-Arcobaleno, 4 Linda Zerbinati, Pallamano-Cellini-Padova, con 3 gol Giovanna Bisevac, Guerriere Malo, 3 gol Matilde Girotto, Guerriere Malo, 3 gol Gaia Lapo, Guerriere Malo, per il Mestrino, 3 di Sofia Lucca, per la Pallamano-Cellini, 3 di Gaia Mazzaro, 3 in casa Tusce Prato, Rebecca Micotti, 3 per Pallamano-Derza, li segnano Piccoli-Ginevra ed Elfa, 3 Cus-Udine, ci pensa Adele Pallamano-Mugello, 3 per Giuliana Salemme, Pallamano-Mestrino, 2, Erika Bernardi, Pallamano-Riago Padova-Arcobaleno, Laura Carer, torniamo in Mugello, 2 le segna Guia, Cerchiai per l'Euromed, gli stessi di Emma Dallai, sempre in casa Euromed, Cellini-Padova, 2 di Giorgia Grigio, 2 Pallamano-Mestrina, Johanna-Hema Mazzere, 2 Pallamano-Udine, Monica Milosaievic, poi 2 Eleonora Munaro, Cus-Udine, torniamo a Padova, Pallamano-Cellini, Ifeoma-Ocarie, poi 2 ad Odezzo, Sara Paraschiv, 2 a Casamalo-Arianna-Peruzzo, 2 a Casa Odezza-Martina-Pizzutto, 2, torniamo a Prato-Rossi, 2 anche, come detto in fase di tabellino, Giulia Saccenti a Casa Prato, da Udine, 2 siglate da Vittoria, Santarelli, 2, Oderso-Francesca Traini, torniamo in Mugello, 2, Laura Zoppi, a Casa Malo invece andiamo nel tabellario dei soli gol, i single, 1, Stefania-Agostina-Alfonso-Malo, Giselle-Valeria-Alfonso-Malo, a Casa Tusce, 1 di Viola Amerighi, a Casa Tusce, 1 di Sara Bisori, Mestrino, 1 di Lisa Cappellari, Odezzo, 1 di Noemi Di Palma, a Mugello, a Casa Euromed, 1 di Alice Dreoni, 1 di Gigli Caterina, a Casa Guerriere Malo, single di Sara Maestrello, Oriago Padova, ne segna 1 Angela Mazzariol, torniamo a Padova, 1 per Chiara Nicolai, leggo dal tabellario della Fig, lì per lì non ho pensato di raggrupparli, squadra per squadra, mi scuso la prossima volta, sarà assolutamente fatto, magari sarà più godibile, fa la mano d'Ezzo, 1 lo segna, Paraschiv, Mestrino, 1 di Maia Ponchio, 1 a Casa Malo, Adele, Sella, 1 a Casa Cellini Padova, l'ultimo di Marta Zannone. Andiamo a fare un punto della Serie A2 maschile, girone B, è tutto fermo per i dubbici impegni del campionato Under 20, a cui quest'anno non partecipa il Tavanelle, che ha chiesto alla federazione, venendo esaudita, di essere escluso. Il girone B, dunque, avalanga il Cingoni, con qualche patema, viaggia la Tecnocem San Lazzaro, qualche differenza nella forma anche in relazione al valore delle avversarie incontrate sin qui, ma la sostanza rimane la stessa, anche dopo la quinta giornata della sosta, il tandem marchigiano-emiliano restava saldamente in testa. La classifica tiene il passo la Giara Ferrara, che affronterà nella prossima partita allo anticipo il Tavanelle a casa sua, ripresasi Ferrara dopo la sbandata di Cingoli e subito a punti nel match che la vedeva di scena nell'ultimo match, prima della sosta, sul campo del Pescara. Senza fan in grande scontenza dunque il Cingoli, che si è sbarazzato rapidamente della pratica a Pantarei Italia-Modena, volando sulle ali dell'entusiasmo, generato dal successo nello scontro diretto contro Ferrara, ancora sugli scudi il solito Lamelas, trascinatore del team per l'occasione guidata da Analla, più sofferta ma in prospettiva molto pesante, l'affermazione della Tecnocema ai danni dell'ostico Chiara Valle, che ha confermato sul campo dei Felsini tutti comunque il proprio valore. Argentina e Vassia con sette gol a testa e top scorer dell'ultima giornata giocato. Tra i risultati spiccano poi le convincenti affermazioni di Verde Azzurro Sastre, di Bologna United, di Sardi, confermando i recenti progressi ed un trend decisamente in crescita. Hanno avuto la meglio sul Camerano, mentre il Rosso Blu hanno nettamente superato il Lions Teramo in una sfida di alto lignaggio. E' grande tradizione, sugli scudi nelle file del Bologna United, il solito Francesco Rossi, otto gol ad effetto. Punti preziosi in prospettiva salvezza, quelli, ne avevamo parlato e vengo a ricordarlo, del Tabarnell, che alla Balducci di Pontassieme, è riuscito vittorioso nel debito scano contro Prato, primi due punti, Tabarnellini 27-23, ed il Col poi in Parma, Corsaro sul campo della novità del girone, Monte Prandone. Dunque, i prossimi match vedranno questo tabellino. Parma, Verde Azzurro Sassari, Bara, Tabarnelli, Polisportiva Cingoli, Pescara, Chia, Bologna United, Camerano, Modena, Teramo, Monte Prandone, Prato, Tecnocem, San Lazzaro, ricordo la classifica, comanda Cingoli, retrocesso e voglioso di tornare in A1, 10, poi, allora andiamo così che andiamo assolutamente meglio, allora, dicevo, Cingoli, 10, San Lazzaro, Bologna, 10, Ferrara, 8, che ospiterà Tavarnelle, Camerano, 6, col poi in Parma, 6, il Chialavalle, 6, Verde Azzurro Sassari, 6, Trenone a 6 punti, poi, Bologna United, 3, Laio, 3, a 2 troviamo il Tavarnelle, primi due punti battendo Prato nel derby, poi troviamo Modena, 2 punti, Pallamano Prato, 2 punti, Pescara, 1, Monte Prandone, 0 punti, poi finiamo questo nostro appuntamento settimanale, andando a vedere quello che è successo in casa giovanile, attività giovanile per la Pallamano Tavarnelle, che è stato ospite di un ottimo due giorni, si è giocato a Massa Marittima, a memoria al Tarabocchia, e dunque vediamo i risultati, ovviamente Enrico vi manda, mentre io parlo, la lunga sequela di fotografie che ci hanno mandato da Tavarnelle, è stata una due giorni molto importante e proficua per la Pallamano Tavarnelle, che si è presentata con tre formazioni giovanili al Torneo Memoria al Tarabocchia, organizzato in maniera perfetta dalla Olimpica e Massa Marittima, sabato i giovani, allenati da Probedi e Barbarito, hanno esordito in un triangolare signore, dando del filo da torcere sia ai locali che alla Pallamano Prato, in una formula inedita di un tempo da 20 minuti, con gare di andata e ritorno, i ragazzi si sono ben comportati, come ci scrive Matteo Botta Pelacchi, con due ottime vittorie e due sconfitte, ma l'importante è aver visto in campo la giusta mentalità, in vista di un campionato difficile, come la Serie B, alla quale quest'anno la società ha deciso di partecipare, invece di fare la Jot League, con i vari concentramenti dispendiosi e sempre molto stancanti. Domenica invece in campo, Under 15 e Under 17, che hanno affrontato Massa Marittima e Prato, uscendo sconfitte, ma con buona indicazione, l'Under 15 praticamente rinnovata, con molti bambini piccoli, ma che si sono impegnati tantissimo in campo, grazie alle indicazioni di coach Calosi e Panti. Gli Under 17, che giocando alla pari, hanno dovuto cedere solo nel risultato, a qualche passo indietro, per i ragazzi di Pelacchi, dopo le precedenti uscite, ma siamo solo all'inizio, a immagine di una lunga stagione, dove ci aspettiamo. Tanti miglioramenti, sono miglioramenti che sono infiniti. Previsto anche l'inizio dei campionati, per il 30 di ottobre Serie B, 6 novembre per gli Under 17, in attesa ancora di conoscere l'inizio e il calendario dell'Under 15, finita la sosta, tornando alla prima squadra, per la 2, sabato si torna in campo, con la complicata trasferta di Fedara. Risultati Under 16, Olimpiche Massa Marittima Tavernelle 5-7, Tavarnelle Prato 5-8, Tavarnelle Olimpiche Massa Marittima 6-10, Prato Tavarnelle 10-11, gli Under 15, Tavarnelle Prato 11-25, Olimpiche Massa Marittima Tavarnelle 23-7, gli Under 17, Olimpiche Massa Marittima Tavarnelle 23-18, Tavarnelle Prato 20-21, grazie ai nostri ganci di Massa Marittima, le foto sono terminate, termina così anche quest'appuntamento di martedì 18 ottobre, di A Tutto Handball, come ormai consuetudine, ormai da più di 4 anni sulla programmazione dell'odierno canale 96x196, ricordo per chi ci vede, fate passaparola, se non ci vedete dovete chiamare il vostro antennista di fiducia e far ruotare le antenne chiedendo ai vari responsabili l'indicazione bosta, buona è verso Firenze Sud, verso ipoteticamente la direzione del casello autostradale di Firenze Sud, per incocciare la nuova piattaforma dove noi trasmettiamo dal primo di giugno. Poi voglio dire, i nuovi televisori smart fanno l'auto rimessa a posto dei canali, per cui dovreste cominciare a vedervi, io vi saluto, viva la palla a mano, viva tutte le nostre trascolazioni, viva la palla a mano Tavarnelle, un saluto alla banca di Cambiano, se può arrivare a darci un piccolo aiuto, per ricominciare a fare quanto possiamo, tutte le partite di palla a mano in diretta, grazie se sarà possibile, un saluto, linea alla mia programmazione, grazie a Enrico Milano che mi segue, mi ha seguito in remoto, linea agli studi, grazie, alla prossima dal vostro Stefano Ballerini.